Come balla, Chloe? Balla? Balla? Chloe? Buongiorno! Stavo ridendo perché poco fa ho ripreso una scena che ovviamente vedrete prima di questo. Oggi è venerdì, ho in mente di vloggare tutta la settimana, cioè tutto il fine settimana in realtà, venerdì, sabato e domenica. Sì, spettacolo pietoso e banni stessi, però non ci posso fare niente. Ho la pentola su, ho fatto le patate per la pasta, pasta e patate oggi, così la mangia anche Chloe. Fuori c'è un tempo un po' grigio, un po' tanto grigio. Fa freddo, fa freddo! Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Salti! Ehi! Che cosa fai? Salta! Ok, ho appena lavato i piatti, ho sistemato un po' qua, ho sparecchiato. Come vedete? E niente, c'avrò una lavatrice da stendere, ma questi panni praticamente sono ancora un po' umidi, quindi penso praticamente che la stenderò stasera. E niente, io Chloe è a letto, mio marito sta facendo la doccia, adesso ci riposiamo un po', ci vediamo di pomeriggio. Ciao, ciao! Bobo a teide, bobo. Bobo, amore. Teide, bobo! Teide, bobo! Sono tornata praticamente un'oretta fa. Ho giocato un po' con Chloe, ho girato un video che forse vedrete prima di questo sicuramente, è un video haul. Sono stata OBS. sto ritirando i panni, vi vedete? E niente, io ritiro questi, ci vediamo dopo. Questo vlog si conclude qua, scusatemi se parlo piano, però là dentro c'è mio marito con un suo amico che praticamente giocano a carte. Io sto andando a letto, sono morta di sonno praticamente, ho messo appunto il pigiama. Sono freddissimo e dite, io vi mando la buonanotte e noi ci vediamo domani. Buongiorno, oggi è sabato, ma io ci attivo le occhiaie perché ho dormito malissimo, mi sono addormita da tardi, sono gonfia e sono raffreddatissima praticamente. Oggi è sabato, io sono ancora in pigiama, mi sono appena alzata, in realtà è presto, sono le otto, quindi non è nemmeno tardi. Niente, io ho preso una spina perché ragazze sono raffreddata morta veramente. Adesso faccio colazione con una tazza di latte cereali, questo, vediamo oggi che cosa faremo, insomma. Niente, io faccio colazione e noi ci vediamo dopo ovviamente. Vabbè, voglio farvi vedere come dorme Chloe. Vedete, io mi sono appena alzata. Eccomi qua, ho finito di fare le pulizie. C'è, ho ancora là il cosino per pulire la pezza, adesso la tolgo perché questa qua era l'ultima stanza che mi mancava. Ho finito tutto. Chloe? Alza, ti dai? Fatti vedere. Cucco. Cucco. Attenta, attenta. Stamattina è particolarmente felice e io lo sono per lei ovviamente. Di solito si sveglia di cattivo umore, stamattina no. E niente, va bene, dai. Io adesso la vesto, gli do la colazione. Mi vesto anch'io. Niente, ci vediamo dopo. Ciao. Chloe, guardami. Fatti vedere. Che sei bella. Guardami. Gnocca, guarda mamma. Amore. Guardami. Dov'è Teddy? Guarda Teddy. Guarda Teddy. Buonasera. Ecco qua. Cosa ho fatto. Mi faccio vedere. E' praticamente la pasta sfoglia con il salame. Un'altra l'ho fatta con la mortadella e una l'ho fatta con i wustel. Vi faccio vedere. Questo qua per esempio con i wustel. Poi c'è questo qua con il salame. Quello faccio. E poi c'è quello con la mortadella. Che è questo qua. Ho fatto questi antipastini. Perché vedete sono buonissimi. Questa qua non passa sfoglia. Ce ne sono venuti così. Ho provato a farli perché è la prima volta che li faccio in piccolini in questo modo. Sono proprio carini anche da guardare. Perché voglio praticamente provare a fare degli antipasti per il compleanno di Chloe. Questa qua mi sembrava un'idea carina e penso che li farò. Fatemi sapere se vi sono piaciute e se avete qualche idea per il buffet. E niente. Io sto caricando un video. Però, vabbè, non c'è ancora il titolo. Però come vedete è ancora al 47%. Da ieri pomeriggio che carica. O c'è la linea che fa schifo. Oppure, non lo so, il computer o il YouTube. Non lo so. Mancano 2500 minuti. Mamma mia. Perché quando carico dal telefono mi si carica subito? Dal computer ci sta un secolo, non lo so. Infatti, questo vlog lo sto girando tutto con un telefono. Quindi, penso che lo monterò direttamente dal telefono. Perché ho anche questo programma con cui monto i video. Ce l'ho anche su questo telefono. Io penso che questo vlog forse si concluderà qua. Non lo so. Comunque mi mando un grande baso. E noi ci vediamo dopo o al prossimo video. Non so. Vediamo. Ci vediamo dopo, casomai. Niente, questo sabato si conclude qua. Io lascio tutto con la bagabacicci coccola. Perché sono stanca. C'è una mosca. E niente. Io vado a letto. Andrò a scrivere una cosina nel mio libro. Una dieta. Perché ho in mente di fare una dieta e di farla insieme a voi. E niente. Noi ci vediamo dopo. Cioè, ci vediamo domani. In realtà non so se domani vloggo. Probabilmente monterò questo video e basta. Ciao.